molto bene dove arriva Maya che serve grandiosamente l'otto che va sul fondo cross in mezzo sullo secondo palo sponda verso Brey che calce la spara fuori prima chance della partita per la Bavaria colpo di testa da parte di spona arriva Maya tocco verso Kosuk che va con il Mancino deve volare Kartov bella intenzione verso Gossendorfer che la tocca verso Winkla e porta avanti la Bavaria 1-0 al Domenico Francioni probabilmente poteva fare meglio qui Kartov 1-0 cross in mezzo profondo arriva il colpo di testa Caruso copre la porta capitano arriva la pressione di Gash e poi Mandart a toccare Mandart vince lo contrasto si invola verso la porta entra in aria Mandart arriva la copertura immediata Dimitreschi Kosuk che subisce un tocco tutto regolare poi Mandart zona tiro calcia così è così il portiere poi sulla ribattuta Maya fa 2-0 per la Germania parte Oppelto con il Mancino supera la barriera però non Kartov Oppelto Gashi c'è Kosuk centralmente lo tocco e però Maya come gioca la Bavaria adesso Oppelto entra in aria ancora Oppelto tocco sotto Kosuk non ci arriva poi Brei sulla linea si salva la Macedo nel nord però l'azione non è finita e adesso si Dimoschi Andonov ancora Dimoschi cross in mezzo per il set che colpisce come prima sempre sul fondo però la Macedonia si fa vedere davanti vediamo se questa volta Andragashi che prende Rade in corsa va in porta esterno della rete Stojov si accentra Stojov zona tiro ci va deviazione poi facile presa per Caruso azione pericolosa adesso si allunga la palla il 6 lo fa male Zivanovic c'è Kaogul davanti Zivanovic porta palla e calcia solamente alto sopra la traversa vicino al gol del 3-0 la Bavaria anche Scoto poi lancio però a Karaogul e basta così al Domenico Francioni di Latina vince la Bavaria però 2-0 contro la Macedonia nel nord si conclude la prima giornata del gruppo 5 della Wifa Regions Cup Grazie